Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Sono mille sospiri diamanti perduti così come noi. Sono frasi d'amore pensate ma dette soltanto a metà. E ogni sera dall'ultima sera tornano a me. Mon amore. Sì, è mio marito. Sono venuto a punto per condurla da lui. Vengo subito. Le bambine fra mezz'ora escono da scuola. Ah, non ha nessuno a cui lasciarle? Ho una vicina, la signora Lussacca. Ma in questo momento è fuori. Beh, l'ispettore l'attenderà pregando a nome suo di tenere le bambine. Grazie. Ma non ditevi. No, no. Lui dirà che suo marito non si è sentito bene in fabbrica. Allora vada a prepararsi signora, vada pure. Allora vada a prepararsi signora, vada a prepararsi signora. Grazie. come sta dottore ma parla una sola parola monique forse il nome della moglie o donna senti che telefona l'unica ci dovrà essere sempre qualcuno di voi qui pronto che la parla a interrogarlo è che è l'unico filo che abbiamo per arrivare a fernand tienimi informato io per almeno un paio d'ore sarò in casa reso pari merci ci penso io si sta bene a pancia piena eh gustavo che ne dice tutti buoni comandante a me fa da digestivo lei d'aperitivo e perché no quelli sì che vanno a farsi un bel pranzetto donno ognuno fa il passo secondo la gamba amico mio buongiorno gustavo buongiorno come mai c'è tanta polizia nel quartiere succede qualcosa possibile che non conosca il comandante prende un cucchetto con noi non succede niente signorina si tratta della solita routine del servizio controlli formalità beh meglio così capirà non è da molto che io abito qui beh gustavo se qualcuno mi cercasse certo signorina gli spiegarò come trovarla grazie arrivederci gustavo agente di un po gustavo l'hai fatta vedere questa foto ma se la può pure riprendere tanto questo qui non lo conosce nessuno no no tienila tiene lo cercano ancora e l'altra piuttosto quale altra ma come quella che ho distribuito ieri mattina no stai a vedere che mi sono dimenticato di dartelo questa ma il signor richard ho messo qui dentro i vestiti e le scarpe di rezone è la roba che mi ha detto va bene senti dai questa a merce speriamo che la scientifica trovi qualche cosa di utile va bene capo io non ne posso più vado a casa va bene capo io non ne posso più vado a casa cosa facevi lì spiavi spiare io signore guardavo cosa faceva lei in casa mia casa tua ah tu sei la figlia della signora rezone sì mi chiamo monique rezone e questa è la mia sorellina avete finito di ficcare il naso in casa nostra finito sì finito signorina monique ma lui desidera sono sono le figlie della signora rezone sì desidera no niente scusi volete chiudere quella porta fa un freddo cane porta dentro le bambine c'è qui desidera niente 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 allora permette prego grazie a tutti polizia 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 ancora permesso avanti e chiude la porta posso rificarmi sotto è proprio una persecuzione stanotte mi cacciate via dal bulvare adesso si tranquillizzi signorina si tranquillizzi non sono della buon costume io beh allora perché beh così per per fare due chiacchiere ve va è molto che sta qui da quando sono tornata da can da ottobre faccio sempre la stagione a can ma quest'anno gliela raccomando una vitaccia eh così è è sposata eh sì ma quando mi ha infilato l'anello al dito ha preso il volo ah capisco capisco anche mia moglie sa e no anche lei ha preso il volo eh già si vede che abbiamo sposato due uccelli ma lo so che sei simpatico no 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 senta signora permetta che mi segna il ladro arrestato è morto senza aver parlato non c'è nessuna traccia della banda assassina fermo è ancora introvabile il commissario maigret ferito dichiara che vuole andare in pensione eh 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 questa è un'indiscrezione del nostro carnavel piacerebbe al dottorino eh eh dottorino? sì sì ma di chi padre? di chi padre? il signor sostituto del signor procuratore quello che ha organizzato la caccia grossa ai Champs-Élysées non saremmo rimasti con un pugno di mosche in mano se mi avessero lasciato qualche uomo in più deve venire da lui questa notizia del mio ritiro in pensione no 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 lo ricordo anch'io sai l'hai proprio detto di volerti ritirare sì quando? a Bergerac quando avevi al collo l'altro braccio ah sì? ah sì? ma lo dissi solo a te anzi te lo riconfermo si vede che le ferite alle braccia mi fanno venire una gran voglia di starmene tranquillo di ritirarmi in campagna ma adesso c'è questa storia da risolvere e non c'è ancora un barlume di luce Raison è morto l'unico che poteva parlare no 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 non ti muovere vado io ma è sempre sì sì vabbè pronto? sì? sì casa migre no no sta riposando eh ah 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 anche qui sì vabbè 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 scusi aspetti un momento le frumelle eh dice di aver scoperto dove ha abitato quand'è fino alla notte in cui è stato ucciso la giacca la giacca dammi la giacca mi credo ma cosa fai il braccio mi credo ti fa male dammi la giacca dammi la giacca ti prego dammi la giacca ma perché l'ha mandato di là? lo conosce lei il suo vicino? chi? lo svizzero? come fa a sapere che è svizzero? ho lavorato in svizzera tre anni fa facevo l'antrenese in un locale di ginevra poi mi hanno tolto il permesso di soggiorno suppongo che da quelle parti non piaccia la concorrenza e le ha mai parlato? è venuto qui? sono andata io da lui una volta sola e l'orologio? il padrone ha detto che lei l'altro ieri gli ha dato l'orologio per farlo riparare ma lei adesso ce l'ha al polso il signor Richard non è ancora ritornato dunque è entrata nella sua stanza almeno una seconda volta davanti su dica la verità e va bene? e mi ripeta tutto dal principio lei l'altro ieri lo ha visto rientrare qui eh? che ora era? mancava poco alle tre è sicura? c'era anche il padrone? ha il suo da fare oggi la polizia sa se sua moglie me l'ha stirata la biancheria? credo di sì l'ha vista salire con un fagotto in mano ah buongiorno buongiorno signor Richard salve signor Richard la sua chiave è lì attaccata grazie è una persona a modo quella ah sì sì è più di un mese che qui non ha mai dato noia a nessuno se ne sta quasi tutto il giorno in camera sua seduta davanti alla finestra a leggere o ad armeggiare quei suoi francobolli ah ma non hanno proprio pace oggi ci credo con quello che è successo ha letto il giornale? no venga no 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 e adesso anche il signor Megre avrà il suo da fare avanti disturbo? no no in cosa possa essere utile signorina Olga? il mio orologio va indietro lei che è così brava potrebbe darci un'occhiata ah beh perché no se me lo lascia che dice sarà sporco? la molla funziona beh vedremo un bicchierino di Kirsch? no no per carità chissà quanti ne dovrò bere prima di domani mattina beata lei che sta qui a riparo deve essere un pigro lei ah sì dicono così beh e per ora grazie signor Richard arrivederla signorina Olga arrivederla grazie a tutti ecco così dice che gliel'ha visto fare appostandosi al buco della serratura ma perché tanto interesse per quand'è? forse forse era innamorata innamorato ma che innamorato alle due di stanotte è ritornata a riprendersi il suo orologio lei dice perché ne aveva bisogno e temeva di aspettare troppo forse è vero capo sì forse o forse sapeva che era già morto e se questo fosse veramente gatto e se in qualche modo anche lei fosse nel giro di Fernand e dove era quando è l'altro ieri alle 13 e 15 certo se era l'ufficio postale per la rapina ha avuto tutto il tempo di tornare qui dopo essersi cambiato d'abito eh sì se almeno Rezón avesse parlato avanti guardi capo ma questo è il vestito che hanno visto all'ufficio postale e dove l'hai trovato? nella fabbrica dove lavorava Rezón chiusa a chiave nel suo armadietto con questa tuta bravo bravo questo è naso da poliziotto bravo però ti tagli i capelli ma capo per favore te li tagli te li tagli ma quand'è che lo ha ucciso? no e dove? e perché? e noi non sappiamo ancora niente della sua morte né di Fernand e della sua banda beh porta anche questa alla scientifica è di Amers che ci mandi uno dei suoi lei non torna alla centrale capo no no è una gran matassa imbrogliata ma qui c'è il bandolo e allora dobbiamo beh te ne vuoi andare? sì ecco tu aiutami restiti cominciamo per quisire su è un po' Grazie a tutti. 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 No? Oh, sì, certo, certo, certo. Senti, su, adesso, sediti, sediti là. Hai dormito stanotte? Beh, sì, insomma, le mie cinque ore me le sono fatte. Va beh, allora piazzati qui, eh, e non ti muovere fino a che non ti mando qualcuno a darti il cambio. Si tratta di vedere chi va e chi viene da quelli là, eh? Beh, sarà meglio farò che tu sia al buio. Ehm, Fiumel. Ehm, Fiumel? Sì. Buonanotte. Ci eravamo già incontrati qualche volta uscendo. Eh, un tipo molto gentile. Niente male. Insomma, meglio lui che Fiumel, eh? Che c'entra? Aristide è buffo. Ah, 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 siamo già ad Aristide. Ehm, li ho mangiato? Mangiato tra cioccolato. Non ne ha più, non... Così prese l'iniziativa, eh, ed entrò in camera del signor Richard. E poi? E poi che? Gli hanno già detto quello che è successo. Da quel lato niente di niente. E le dispiace, vero? No, perché la prima volta, anzi, meglio così. Non vorrà mica aprire la finestra? No, volevo soltanto chiederle. Non le capita mai di buttare l'occhio alla casa di faccia? Dalla matta? Perché matta? La vedesse? Per me è una matta, eh? Di qui si vede tutto. È una bella casa. Fa piacere guardarla. La vissi io con le specchiere, con i lampadari. Che meraviglia. Certi giorni, specie d'inverno, io ci perdo le ore a guardare. Eh, le tende sono sempre spalancate. E la mattina poi? Cos'è che la fa ridere la mattina? C'è che vede quella. Insomma, cammina per la casa senza niente addosso. Ah. Tutta nuda, parola. Certo è una donna ancora... Beh, niente male per la sua età. Perché? Che età le dà? Oh, i suoi 40 non glieli leva nessuno. Solo che con donne che si curano come lei vada un po' a indovinare. E riceve molta gente? Beh, a parte l'amico fisso. Ah, c'è un amico fisso? Eh, e vedesse che ragazzo. Per me però è troppo giovane per lei. Certo anche di soldi lei ne deve avere parecchi. Perché è giovane come... Lui? Non ha 25 anni, garantito. In quanto all'altro... Ah, c'è un altro? Sì, il vecchio. Eh, più classe quello. E che eleganza. Arriva in Bentley con uno chauffeur che è una meraviglia. La sua ora è quella del tè. Le cinque. E si ferma la notte? No, la notte mai. Ma perché mi fa tutte queste domande? Le dispiacerebbe dirmelo? Beh, sì. Mi dispiacerebbe, sì. Pazienza. Io sono rassegnata, sa? Non me ne importa niente. No, no, grazie. Fumo la pipa. Proprio come lo svizzerotto. Arrivederci. E nei guai? Ha fatto qualcosa? Beh, glielo dirò poi un'altra volta, eh. Arrivederci. Commissario. Sì? No. Eh, no. E allora, signora, non è accaduto nulla? Nel modo più assoluto. Non mi manca nulla. E ha visto lei stesso, no? Porte e finestre sono intatte. Nessun segno di frazione. La macchina è pronta. Ha detto ad Henry che il commissario vuole vederlo? Signora Henry è già uscito, madame. Mi dispiace. Ero certa che il mio segretario fosse in casa. Se desidera interrogarlo, lo manderò da lei. Ma non mi pare sia più il caso. Tutto è chiarito, no? Sì, certo, signora Wilton. Il sopravvito e il cappello del signor commissario. Mi sembra deluso che non sia accaduto nulla. No, no, per carità, signora Wilton. Meglio così, anzi. Se non si sapesse che la polizia è quella cosa terribilmente seria, direi che ha voluto farmi uno scherzo. Qualche volta anche la polizia fa degli scherzi. Sì, immagino allora che avrete un grande affare. Beh, ma no, non è questo il caso. Le ho spiegato la circostanza particolare, insomma, di che ladro si tratta. E siccome ha abitato per più di due settimane proprio qui di fronte, allora l'ho sospettato e così mi sono permesso... Ha fatto benissimo. Grazie. Ha più di un'automobile lei, signora? Ne ho due. La mia e quella per la servitù. E il segretario? Ah, la sua. Perché? È una macchina sportiva, eh, a giudicare dal motore. Beh, scusi il disturbo, signora. Che dice mai? Le sono anzi grata. Riconoscente. Per lo scrupolo, l'interessamento con cui tutelate la pace e i beni dei cittadini. Boh, i beni dei ricchi, la vita dei poveri. Ci sforziamo di proteggere tutti allo stesso modo. se si può. Commissario? Signora, mi rispetto. Ah, questi devono avere un gran valore, immagino, è un piccolo patrimonio, eh? Sì, è una raccolta di un certo pregio. mio marito è un appassionato collezionista di bronzi del Rinascimento. Sir Wilton? Sì. Ma scusi, lei non è divorziata? Oh, sì. Ma Wilton è pur sempre mio marito. Ah, giusto, giusto. Giusto. Mi scusi il disturbo, signora. Con permesso. Dovrebbe aver ricevuto una dozzina di colpi. È stato aggredito da dietro. E un colpo molto violento gli ha sfondato il cranio. È morto subito. E gli altri colpi? Alla faccia, quando è caduto sul dorso. Ma con che cosa è stato colpito? Ne abbiamo parlato a lungo sulla medicina legale. Di sicuro non si tratta né di coltello, né di chiave inglese, martello, roba del genere. Escludiamo che fosse un oggetto levigato o squadrato. Di sicuro è un oggetto pesante, anche abbastanza grosso. Ecco, qualcosa di questo genere, di questa forma, pressa poco. Gravito. Una specie di statua, eh? Sì. È un'ipotesi che ho fatto qui nel rapporto. Una statuetta. Ma per l'ora della morte? Fra mezzanotte o le due. Ma piuttosto verso mezzanotte. Va beh. Io la ringrazio molto, dottore. La medicina legale ha fatto un buon lavoro. Arrivederci, dottore. La compagno. Di nuovo. Calma. Calma, calma, Ambrosini. Respira profondamente e raccontami tutto della signora Rezon. L'hai pedinata? No, lei no. Ma come no? Ti avevo detto di seguirla, di vedere con chi si metteva a contatto. Morto Rezon, l'unico bandito che avevamo acciuffato, non ci resta che alla moglie per sperare di arrivare a Fernand. E la pista di onore quant'è? Non sono affari tuoi questi. Tu dovevi seguire la moglie di Rezon. E che le ha detto che non l'ho fatto? Se lei non mi lascia parlare, capo. Beh, avanti, parla, su. È che ho visto subito che era tempo perso a seguire quella donna. Lei stesso dice che le sembra estranea quello che faceva il marito. Così mi sono informato dai loro vicini, Lussac. Non era questo che voleva? Allora, vai avanti, vai avanti. Beh, ho saputo che lui, Jean Lussac, fa il rappresentante di strumenti musicali. Ha un figlio di due anni e una moglie carina. Eh sì, proprio carina. Chi ti ha detto risedere? Siediti. Ambrosini, l'ho vista anch'io la signora Lussac. Non è questo che voglio sapere. Eh, aspetti. Allora, io ho pensato. Sembrano brave persone, sì. Però erano amici stretti di un bandito come Rezon. E questo te l'avevo già detto io. E va bene. Soltanto che, secondo me, questo Lussac fa troppi lussi per un commesso viaggiatore. Intanto Marce e Mercedes ultima serie. Oh, finalmente una notizia interessante. Hai saputo altro? E ieri sera, dopo cena, Lussac è uscito. E io dietro con un tassi. Purtroppo all'altezza della porta di Versailles mi ha seminato. Eh, bravo Ambrosini. Ma è colpa del tassista, capo. Non è voluto passare con Rosso. Così sono tornato sotto casa sua a fargli le poste. E l'ho visto rientrare all'una dopo mezzanotte. Va bene, sei vito a stagliare costo, eh? Senza che se ne accorga. Senti, procurati una macchina, firmo io la richiesta. Ma vadano a farti seminare un'altra volta adesso, eh? Tia tranquillo, capo. Io con Rosso passo lo stesso. Va bene. Allora, senti il formato, eh? Tagliati i capelli. Ma capo. Sì. Dove sta andando? Oh, salve, signor direttore. Stavo seguendo la mia pista sulla morte di quand'è. Vedi, proprio di questo volevo parlarle. Sì? Il procuratore Dumaiot e il sostituto Carnavel ritengono che lei non debba più occuparsi di questo delitto. Eh? E perché? Pare che siano convinti che non c'entri nulla con la faccenda delle rapine. Ed è di questa che sono preoccupati. Le indagini non approdano ancora nulla e... E la stampa starnazza sempre più. Eh, lo so, lo so. Non penserà che non ne sia preoccupato anch'io, non penserà che non mi domandi anch'io fino a che punto c'entri il delitto quand'è. Scusi, lasci che se ne occupi. Il solito brigadiere Fumel, non è lui l'incaricato. Sì, ma io gli do una mano perché... Beh, sì, insomma, la cosa potrebbe portarmi a Fernand, ecco. Potrebbe. Sì. Non è troppo poco. Intanto è sfumato l'indizio del vestito. Ormai è provato che il gangster vestito di scuro era raison. Beh, un fatto è certo, signor direttore. Anni fa, quand'è, con Nobby e Fernand, come si fa dunque a dire che il delitto quand'è non c'entra con Fernand? E con le rapine. Sì, forse, non c'entra. Ma io dovrei mollare proprio tutto adesso che mi sono imbattuto in certe persone che potrebbero avere rapporto con l'omicidio del povero quand'è. Sappia allora che sono proprio queste certe persone in cui le sei imbattuto a preoccupare il procuratore. E non solo il procuratore. Ah, cioè ancora molto più in alto. Perché vogliamo fare la commedia fra noi, Magret? E pare che al ministro sia arrivata una protesta importante che era imbazzata fin qui ed ha messo in agitazione tutto lo Stato Maggiore. Ho capito, ho capito l'antifona. Non devo più disturbare la signora Wilton. Stavo a punto per farle un'altra visita, ma eviterò, eviterò di scomodare la signora. E' dunque tanto importante il suo ex marito? Beh, direi di sì. Prego. S'accomodi lei, signor direttore. Prego. Grazie. E' stato fatto presente dall'alto che si tratta di un grande amico della Francia. Sir Wilton è uno straniero influente da non infastidire. Un inglese che preferisce vivere qui piuttosto che dall'altra parte della manica. E come mai? Preferisce come si vive qui e si sentirà più libero. Si sa a Parigi e Parigi. Libero in che senso? Non è che in Inghilterra non ci sia libertà. Non faccio il collegiale, magrè. Sir Wilton è un tipo che si è sposato tre volte e scommetto che ce ne sarà presto una quarta, benché sia prossimo ai settanti. Diciamo che non disdegna le donne, dunque. Eh, diciamolo pure. Non disdegna nemmeno quelle da cui divorzia. è rimasto in eccellenti rapporti con tutte le sue ex e mogli. Tutte, compresa l'ultima, Florence. Ah, già. Quella che sono andato a scomodare e a cui permette di portare il suo nome, Stuart Wilton. Beh, finché non infrange in maniera grave le nostre leggi la sua vita privata, non ci riguarda. Mi piacciono le donne. E allora? A cui, a interessi colossali, ha avuto persino la legion d'onore al merito. Dobbiamo tenercelo buono, magrè. E il figlio? Quello che ha avuto dalla prima moglie. Ci siamo. Questo è l'argomento che la interessa. Il figlio è stato sposato appena un anno ad una bellissima manchenda di origine ungherese, lì da Herzeg. Poi divorziò. Il padre prima si era opposto alle nozze, ma il figlio si era intestardito. Però, un giorno, che succede? Che il figlio si accorge che sua moglie e il padre... Ah, bella famiglia, no? Si è cercato di mettere tutto a taceri, ma qualche giornale ha parlato. Ora Lida vive a Roma con un principe italiano. Ecco. Questo è quello che voleva sapere. Quando le ho detto che il figlio ha un appartamento all'hotel Giorgio Senk, le ho detto tutto quello che sa. E adesso anche lei sa tutto. Però, una cosa deve promettermi. Di non fare nulla senza interpellarmi. Stia tranquillo, signor direttore. Quando avrò un'idea, correrò da lei. E grazie per avermi avvertito. Prudenza, negre. Ah, sì, promesso, promesso. Prudenza, promesso. Prudenza. Allora, intesi, eh, scimel? Intesi, capo. Devo vedere se nell'interno della bentria del vecchio Wilton c'è una coperta di gatto selvatico. E devo fare altrettanto con la macchina del figlio. Mi raccomando, è discrezione, la massima discrezione. Si fide di me, commissario. Ha visto come ho perquisito casa quand'è? La madre neppure se n'è accorta. È vero. Ma a proposito della vecchia quand'è, è strano che il suo figlio non le abbia lasciato nulla. beh, ma qualche vollo raro poteva rappresentare un buon investimento. Sì, ma non da lasciare in mano ad una vecchia che sa appena leggere. Ambrosini, passa per lì il Moffetaro. Dove abita la madre di Quand'è? Sì, ti lasci lì, è solo una piccola deviazione. E poi corri a fare le poste al nostro Lussac. Stia tranquillo, quello me lo gioco io. Però ti gioca lui se non ti levi quei baffi finti. Ma guarda un po'. Basta. Per favore. Di questo non so niente. Beh, ma per forza doveva rivendere i gioielli, la roba che rubava. E dato che non era una spendazione, per forza avrà nascosto il ricavato in qualche posto, certamente. Se i soldi per la casa, signora, quando glieli dava di volta in volta, come farà adesso all'andare avanti? Non ho paura. Onore è un bravo figlio. Sono sicura che non mi lascia senza niente. Non è stato ucciso da un vagabondo. Non è un delitto fra normali e non è stato nemmeno liquidato da un complice. e poi un vagabondo non avrebbe avuto alcuna ragione per sfigurare il cadavere accanendosi sul viso e votando le tasche di ogni cosa, compresi i fiammiferi. Un complice ugualmente non l'avrebbe fatto, sapendo che quando è stato in prigione e quindi immaginando che noi l'avremmo identificato dalle impronte digitali. digitali. Ma chi l'ha ucciso non lo conosceva e tuttavia aveva una ragione importante per sopprimerlo, capisce? Che cosa devo capire? Eh, che quando sapremo quale colpo preparava quand'è, in quale casa, in quale alloggio si è introdotto, noi saremo molto vicini a scoprire chi lo ha ammazzato. E che non lo farà rivivere. Ah, hai già squizzagliato i tuoi uomini? E bravo Fimello. Sì, sì, che battano tutte le gioiellerie, gli orefici e sì, perché quand'è non si serviva di ricettatori. E anche trattorie, pizzicagno, ripanettieri. Sì, perché spesso si faceva da mangiare da sé. E cartolerie, librerie, leggeva, scriveva il nostro uomo. Sì? Eh beh, certo, ci vuole pazienza, ma una traccia deve pur trovarsi. Appena annusi qualche cosa, fatti vivo, hai capito? Grazie. Va bene, come siamo per potermi occupare del caso quando devo far finta che è legato a quello dei rapinatori. Non è vero? No, e ne sono convinto da un pezzo. E non gliel'hai detto a loro? se lo sapessero archivierebbero subito il caso perché l'assassinio di un piccolo ladro non conta più per nessuno, eh? Neanche per la giustizia. Invece, la storia dei gangster tiene tutti in agitazione perché ci sono di mezzo l'interesse delle banche, delle compagnie di assicurazioni e figurati. Ma scusa, c'è un osso, c'è un osso che mi ha dato un'altra totta. Ma ci sono di mezzo i grossi affari, hai capito? Ecco, ma la vita di un uomo non è forse il più grande affare di questo mondo? All'autunno che fra poco non sarò più mischiato in queste storie. È la prima volta che ti vedo soddisfatto all'idea di andare presto in pensione. Sì, è un'idea a cui mi vado affezionando, capisci? Vuoi ancora un po' di patatine? Eh? Un po' di patatine. Eh, pensa finalmente bere un vinello genuino, magari della tua stessa vigna che la vedi lì sotto dalla finestra. Ora ricomincia a parlare della campagna, eh? pensione per me equivale a campagna. Senti, ma mi farai vedere almeno la televisione? Sì, ci si tieni. Io mi accontenterò del giornale che arriva sempre due giorni dopo. Ma non immagini quanto siano belle le notizie stagionate. È come leggere come leggere un romanzo, capisci? le notizie stagionate. Le notizie stagionate. Grazie a tutti. 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 No, ispettore, se è per servizio, se è così, può salire. No, e perché? Se lei non vuole. Grazie a tutti. Ciao, sì, sono ancora qui. E niente, niente, sono occupatissimo. Ho trovato. Grazie a tutti. Vi devo sfruttare la sorpresa. Ciao, 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 ciao. E' un uomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo scopero, abbiamo scopero, No, non riusciti, no, non riuscirà, no, non riusciti a scappare con la macchina, non riuscirò, no, non riuscirò, non riuscirà, non riusciano a scappare con la macchina degli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, 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 Rosalì, ma io devo squaliarmi, hai capito? Bene, comunque di vita è tranquillo. Domani ci saranno novità. Sicurissimo. Ha riattaccato. Passami a Maddie. Pronto? Come sarei a Maddie? Qui è la puente. Qui a Maddie. Siamo a Corbei, pronta a entrare nella villa. Aspettiamo conferma, squadra maigre. Dì ad Maddie, che vada pure. Io mi muovo in questo momento. Bene. Andiamo. Sì. 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 Non vi muovete. Siete circondati. Mettete le mani sul tavolo. Mettete le mani sul palazzo. Vieni. Andiamo, portatevi. Vieni. Calma, calma, eh? Niente paura. È una normale operazione di polizia. Ecco, finite tutto. Ci scusi, eh? Ci scusi. Corsini, cosa fai? Andiamo? Sì, sì. Sì, sì, signor procuratore. Li abbiamo presi tutti. Li ha interrogati? No, non li ho ancora interrogati. Li ho divisi. Aspetta che vengono anche i due di Corbei. Benissimo. Perfetto. Comunque sia prudente, maigre. Quelli sono pronti a dire che li ha serviziati. Se mi si è io? Ma solo un poliziotto stupido senza fantasia né umanità può ricorrere a questo per sapere le cose. Sarei un poliziotto del genere io? Per carità, non intende... Lei anzi, beh, sa come sono le nuove leggi? Oh, ma le nuove leggi mi vanno benone, sa. Il poliziotto deve avere un totale rispetto del cittadino. Non sono le nuove leggi quelle che non mi vanno, ma il modo di non farle funzionare. Questi dottori che badano la carta invece che ha la sostanza. Secre. Mi scusi. Scusi lo sfogo. Stia tranquillo, signor procuratore. Tutto sarà fatto secondo le regole. Buonanotte. Buonanotte. Guarda che si può. Avanti. Capo, hanno portato la signora Lussac. Che ore sono? È quasi mezzanotte. Va beh, fallo passare. Sì. Signora, se comodi. Si segna, signora, si segna. Prego. Se comodi. Quale assistente sociale hanno mandato per il bambino della signora Lussac? La mora. La mora. Ah, Denise, sì, sì. Oh, beh, può stare tranquilla, signora. Guardi, avrà cura di suo figlio come potrebbe avere lei. È un'ottima assistente. Ho visto, sì. Grazie per la premura. Volevo. Suo marito si chiama Jean Lussac. Fa il rappresentante di articoli musicali, vero? Sì. Ma lui dove? Gli è successo qualcosa? Dopo che Giuseppe... Ah, vuol dire Giuseppe Rezon? Sì. Giuseppe e sua moglie erano nostri amici. Siamo a dire in petai. Giuseppe Rezon e suo marito uscivano spesso insieme. Qualche volta. Ma da quando Giuseppe è morto? Sì, ma è che succede lo stesso a suo marito. Così? Ma dov'è? È qui? Ferito. No, no. No, no, non è successo niente. Posso vedere? No, no, secca, secca, signora. Non subito, secca. Perché? Perché? Lo capisco, se è perché interroga me. Pensa che sia più facile far parlare una donna. Fernand è stato arrestato. E chi è? Non sa davvero chi è Fernand? No. Mio marito non me ne ha mai parlato. Ma suo marito è in contatto con qualcuno, però. Quello che so è che c'è qualcuno che dà gli ordini e non so altro. Tranne che non è stato Jeanne a sparare. Già l'ha detto lui? No. Ma Jeanne non era affatto per quella vita. Si è lasciato trascinare. E poi quella macchina si era messa in testa di comprare la Mercedes. Ha firmato delle cambiali e poi è venuto il momento di pagarla. Ma perché? Non mi ha detto. Non mi devi toccare. Mi aspetti un'altra stanza, signora. Mi scusi. Stanno, stanno, lasciatemi. Venga, venga. Non lasciatemi. Venga. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Lasciatemi andare. Fermate. Facci, signore. Non ho fatto niente. Non lasciatemi. Ho detto lasciatemi. Marredetti. Non vi è bastato perseguitarmi con sabatini. No, Sali. Te lo potevi aspettare, no? Io non c'entro con le vostre sporche faccende di poliziotti. Ma dai che abbiamo cominciato la carriera insieme, va. Pirro schifoso. Io non ho voluto spartire mai niente con i miei altri. Portatela di là, che è la stanza noi qui. Lasciami. E sorvegliate. Argos, schifosi. Ma venite, Fernand. Tu vieni con me. È la più pericolosa di te. Graffia e morda. Accidenti. Entra, Fernand. Vuoi aspettare fuori. Ho l'impressione di esserci già capitato in questa stanza. La mia stessa impressione, Fernand. Ma siediti, siediti. Dimmi subito una cosa. Hai sempre il solito avvocato? Ah, come no. L'avvocato Gambia. Io sono fedele. Vuoi che lo chiami? A me non fa ne caldo ne freddo. Cosa ho da dirgli? Ma se vi diverte buttarlo giù dal letto. Allora, Luca, scusa. Sì, Gara. Fai chiamare l'avvocato Gambia e poi... Sì, Gara. Averti MERS per la prova della parafina. Fa subito perquisire le abitazioni, eh. Sì, Gara. E intanto discorriamo un po'. Eh? Eh, perché? Delle corse dei cavalli? Cosa ci facevi ai mercati generali? Diavolo so che ti hanno visto. Ci sono i testimoni. Eppa, la disgrazia. Oh, non ti inquietare, non ti inquietare. Finirà per parlare con le buone. Dopotutto è un uomo ragionevole, no? Cosa credete che io non vi capisca voi? Poveretti. Avete preso un granchio e adesso siete un po' nervosi. Eh? Ah, ma dire, gli tolga le manette. Lucan? Sì, capo. Pieni, vieni, porta a dentro. Andiamo. Ehi, lo riconosci? Io? Non l'hai vista. Sta a sentire. La voce di quest'uomo la riconosci? Posso sbagliare? Ma credo che sia la voce di Jean Lussac. E allora? Beh, a Jean piacciono molto le donne. Allora? Ma Jean dici che non aspetta più? E che? Deve partire, deve fare un viaggio urgente. Ah, bene. Questo che parla non sei tu? E con questo? Ma Rosalie, la conosci o no? Beh, potrò avere tutte le mani che mi pare, no? E solo vi pregherei di non dirlo a mia moglie. Io telefono a Rosalie tutte le notti. È fuori di casa. Voi mi capirete? Loubierre. E così Fernand non lo conosci neanche tu, eh? No, no, andiamo. Lucia, sei stanco, indispettito, ma dominati. Eh, non tieni niente così. E tu cosa facevi al caffè di Samy? La partita. E lui sa come lo conosce? Gli ho venduto la Mercedes, deve ancora finire di pagarla. Ah, commerci in macchine. Ho un garage a Putot. Ah, tu hai un garage a Putot? Lo riconosci, signora Lussac? No. Ed io cosa vado dicendo da più di due ore? Non ho mai visto né conosciuto nessuno di quelli. E in quanto a Rosalie, sono uscito dal penitenziario senza un sonno. Un compagno mi dice, se ti serve qualche cosa, vai a casa della mia amica. E io cosa dovevo fare? Dormire sotto i ponti? Dì la verità, Jean. Mi hanno garantito che se dici la verità ne terranno il massimo conto. Jean. Ma che verità vuoi che ti dica? Che ho un amante? Ebbene, sì, è vero. È vero. È vero. Ti chiedo perdono, ma è così. Sono un disgraziato. Ti ho tradito, Jacqueline. Ma non ho fatto altro, ti giuro. Jacqueline! Ah! O Green. Mi ha fatto tutto. Grazie a tutti. Chi è? Sono io, commissario. Fiumelli. Buongiorno. Dove? No, no, Fiumelli. No, no. Ma hai notizie dei peli del gatto? No, ancora no. Ma hanno riconosciuto la fotografia di Quandè. Ah, sì? Ma chi l'ha riconosciuto, scusa? Io avevo distribuito la fotografia di Quandè ai miei uomini e l'avevo passata anche agli altri commissariati. Ah, sì, questo non so, lo so. Beh, e allora? Un agente ha finito per infilare la strada giusta. Una piccola trattoria in fondo a Ricco Lancourt. Lì hanno riconosciuto subito Quandè. Era un cliente abituale. Ci andava spesso con una donna. No, come la donna. E da molto? Sì, da qualche anno. Mi chiamavano gli innamorati di mezza età. Pare che passassero le ore a guardarsi. E poi uscivano tenendosi per mano. Quandè faceva... Quandè faceva di queste cose? E' da qualche anno. Senti, ma conoscono la donna? Sì. Il cameriere la mattina all'incontro ogni tanto al mercato vicino. Così ho fatto indagini e ho trovato dove abita. Fa la modista. Si chiama Evelyn. Evelyn Schneider. Andiamo a vedere, eh? Commissario, lei avrà da fare qui, si era occupato. Ho saputo che stanotte ha avuto una notataccia, c'è stata battaglia. Sì, è appena cominciata, sai. E i nostri eroi, i loro avvocati, sono ossi duri. E stasera alle dieci scade il fermo di ventiquattro ore. E se nel frattempo non troverò il modo di incastrarli, li dovrò rilasciare. Ma allora, commissario... Allora che? Dimmi un po'. Che ore sono adesso? Sono due sette e venti. Ah sì? Eh vabbè. La battaglia non comincerà prima di due ore. Mi aspetto da un momento all'altro. una telefonata del sostituto che non aveva. Caro Magret, il caso Quandè non è più di sua competenza. Ma prima che me lo dica lui, vado a sistemare una cosetta. Dopotutto, Quandè lo conoscevo da vent'anni, era quasi un amico. Eh, andiamo con lei. Grazie. Ho sempre avuto il presentimento. Sempre. E come mai? Non so. Eravamo troppo felici. Le parlava mai, onore, del suo lavoro? No. E lei non gliel'ha mai chiesto? Qualche volta. Ma non potevo essere indiscrito. Sapevo che spesso doveva partire. Una volta gli chiesi di sua madre, se era viva. Diventò rosso. Allora pensai che vivesse con me. Non gliel'ha mai chiesto di sposarlo? No. Perché avrei dovuto farlo? Se l'uno me lo chiedeva era certo per la madre. Ci sono molti più uomini di quanto non si creda che non si sposano a causa della madre. E arrivano a 40 anni che sono davanti a noi. Poveri bambini. Forse era proprio il caso di onore. Mi scusi, signorina, se sono indiscreto. Ma onore, le dava mai del danaro? Sì. Tante volte ha cercato di darmene. Ma ho sempre rifiutato. Faccio la modista, ho una buona clientela. Comunque, per non dargli l'impressione che vivesse alle mie spalle, il tempo che stava qui, accettavo metà dell'affitto. Le avete fatto qualche viaggio assieme? Sì. Una volta siamo andati a passare le vacanze in montagna, in Savoia. Ricordo che mi fece vedere le Alpi Svizzere. là c'è il mio paese, dicevano. E poi, poi siamo stati anche sulla costa azzurra. Senta, lei non è più una bambina. Ho quasi 40 anni. E non si è mai chiesta nei dieci anni che l'ha conosciuto in che modo vivesse. Sapevo che commerciava in franco bolle. E non sospettava che avesse altre risorse, un'altra specie di attività. Ma quale? Lei lo sa? Allora mi dica, cosa faceva? Faceva il ladro, signorina Evelyn. Il ladro di professione. Lui? Onore! Ma non è possibile, non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Onore non è... No, le dico che ha rubato tutta la vita, dall'età di 16 anni. Quando era a Lausanna finì il riformatorio, da dove scappò per arruolarsi nella legione. Questo sì, me l'aveva detto. Quando notai il tatuaggio che aveva sul braccio. Però non aveva detto che aveva scontato due anni di prigione. Io, signorina, la conoscevo bene. Non era un ladro comune, questo no. Non aveva complici, non frequentava l'ambiente. Conduceva una vita ordinata, i suoi colpi li meditava a lungo. Poi tutti in case ricche. E non aspettava che la casa fosse vuota, no. Voleva accogliere la gente nella loro intimità. Vede uno psicologo, potrebbe spiegarglielo meglio. Mi dica. Se può. Non aveva mai ucciso nessuno. Mai. Glielo posso garantire, mai. E lui? Chi l'ha ucciso? La polizia? No. Allora, quelli da cui era andato per rubare? Beh, non lo sappiamo ancora, con certezza, Janine Evelyn. Beh, adesso mi stia bene a sentire. Noi non siamo qui ufficialmente, non abbiamo nessun mandato. Voglio dire che lei aveva tutto il diritto anche di non farci entrare. Adesso non so se mi capisce. No. No? Non mi capisce. Insomma, tutto quello che lei mi ha detto non figurerà. Ma sappia che quando si saprà del suo legame con Onore, verranno ad interrogarla ufficialmente con un regolare mandato. E io cosa dovrei fare? Eh, beh, voglio dire che allora, allora sarebbe troppo tardi che se lei nel frattempo fosse... Beh, il suo Onore non le ha lasciato nulla qui, che sono dei vestiti, altri oggetti, eh? Sì, qui c'è la sua valigia. Ecco, vedi, ecco, c'è la sua valigia. È normale, stando con lei così sovente, è naturale che abbia lasciato qui una valigia. Eh, con le sue cose più importanti e più delicate. Immagino che abbia lasciato anche le chiavi autorizzandola ad aprirla nel caso poi gli capitasse qualche incidente. No, no. No, veramente non mi ha lasciato le chiavi, ma se vuole potrei... No, 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 aspetta, no, no, per carità, io non ho alcuna veste per farlo. Volevo solo dire che non mi stupirei se nella valigia ci fosse qualche cosa, non so, del danaro. dei preziosi, so, Franco Bolli, se non proprio un testamento, so, una lettera, non fosse altro che per avere cura di sua madre in caso di disgrazia, lei mi capisce? Ecco, lei è in un certo senso libera di farne quello che vuole. Commissario? Eh, sì. Prima però che qualcuno dalla polizia torni qui ufficialmente, perché allora, signorina, allora sarebbe troppo tardi. Voi, voi non siete contro di lui, contro onore. Grazie. Bene. Faccia forza, signorina, eh? Su, su. E non dimentichi quello che le ho detto, eh? No, caro signora Megri, eh no, che non vuoi farci? Il pranzo, il pranzo lo sta facendo. No, stai tranquillo, la cena? Beh, la cena dipenderà da questo signore e dai suoi amici. No, non aspettarmi, eh, ciao. Allora, parlo, ti ripeto che ormai lo sappiamo che ha sparato e ti conviene dire subito la verità. Ma di che spari parla? Pronto? Alla buona. Cosa? Tutto il mallopo. Tutto, non manca nemmeno un soldo. Ma come sotto il tetto di una macchina? Nel garage di Louviera a Putot? Magnifico, la buona, è magnifico. Per te è finita, Fernand, questa storia. E anche per me. Senti, Luca, averti il direttore dice che prenda lui le congratulazioni. Io me ne vado a casa, finalmente! a dormire! Voglio il mio avvocato. L'avvocato. Glielo dica anche lei, signora Megret. Deve essere lui a comunicare la cosa al procuratore e a tutti. Ma sa, signor direttore, veramente io non... Eh? Mi scusami, signor direttore, hanno suonato. La prego, Megret. No, senta, la prego io, direttore. Due notti in bianco, andiamo. Non sono più un giovanotto. Ha fatto 30, faccia 31. farà tutto un sonno stasera. No. La maggior parte dei complimenti. Aspetta a lei, io mi sentirei un usurpatore. No, prego, è questo comodo. Megret, Megret c'è... Fimel. Hai qualche cosa da dirmi? Sì, ho rintracciato la coperta di gatto selvatico. Bravo, bravissimo. Vieni avanti, allora, dov'è questa coperta? Non lo so, commissario, e ho paura che non esista più, però è esistita. Ah? Il garaggista di Rumberbeth l'ha veduta alcuni giorni fa, e così anche il benzinaio, il giorno stesso in cui venne ammazzato quand'è. Lo senti, direttore, stiamo sfondando su tutti i fronti, forse abbiamo in mano l'assassino di Quand'è. E dove l'hanno vista questa coperta? Nella macchina di quel giovane che la signora Wilton fa passare per suo segretario. Come? Fa passare per... Sì, perché non è il suo segretario, no, è il figlio di Sir Wilton. Il figlio di Sir Wilton? Sì. E tu spiattelli una notizia con quella faccia da punerata, una notizia così importante, dico, ma andiamo, Fimel. Questa è una volta buona che ci scappa la promozione. Ma che, commissario, sì. Sarà già molto se non mi rispediscono a regolare il traffico, altro che promozione. Perché? Cosa è successo? Il rapporto. Il rapporto sull'inchiesta che avevamo scritto per il signor procuratore. Il signor procuratore l'ha fatto leggere al sostituto Kernavel e mi hanno fatto chiamare immediatamente. Mi vanno i sospetti contro i Wilton, immagino. Mi hai dovuto vedere che faccia hanno fatto. Gliel'avevo detto, Megreddi, usare la massima prudenza. Sì, vabbè, non ti preoccupare, Firmela, adesso ci penso io. No, no, no. Sì, signora Megred, preparami il vestito. Ma che cosa vuoi fare? Niente, caro, ti ho detto preparami il vestito. Dai, stai tranquillo, Firmela, non c'è niente, vedrai. mi ascolti, che c'è? L'affare quando non è più di sua competenza. Ormai è provato che non ha niente a che fare con le rapine. Beh, per l'appunto, adesso che ho tolto di mezzo quei banditi, proprio adesso ho il diritto di occuparmene, no? Ma che cosa hai in mente di fare? Eh beh, combattere contro i mulini a vento. Eh, lo so, lo so, signor direttore. Mi scusi, permesso. Riassumendo, lei, signor commissario, accusa la signora Wilton e il figlio di Sir Wilton di aver ucciso onore Quandè. No, no, io non formulo accuse ancora, no, ma se mi si lascia mano libera ho molte probabilità di trovare tutte le prove. Mano libera? Sì. Ma signor commissario, si rende conto? Ma che è? Come e perché la signora e il giovane avrebbero ucciso Quandè? Io lo vedo, lo vedo come fossi stato presente, signor procuratore. Quandè entra nella villa. Lui non ha mai avuto bisogno di chiavi e di complici. Entra e lui va a colpo sicuro dove c'è quello che gli interessa. Ma per la prima volta nella sua vita il ladro fa rumore. E allora, non so, il casco è un oggetto, una sedia, lo sentono, lo scoprono e lo fanno fuori. Perché mai? Bastava immobilizzarlo e poi chiamare la polizia. Oh, no, no, no. Beh, la signora e il figlio di Wilton non potevano affrontare lo scandalo. Sir Wilton avrebbe scoperto la loro tresca e tutti e due campano col danaro del vecchio. Beh, in sostanza lei afferma che tra la donna e il giovane... No, 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 signor sostituto, no, io, io, no, non affermo questo. Può persino darsi che il pudore sia salvo, ma è certo che fra di loro ci sono interessi comuni. Ecco, domandi al signor direttore. Eh, lui si è informato sull'usanza di quella gente. Permettemi in guardia, è vero direttore? Per il vecchio la sua ex moglie e il figlio non si conoscevano nemmeno. Confessare di essere stati in casa di notte insieme significava perdere il protettore e il suo denaro. Per questo non potevano chiamare la polizia. No, io non accuso il giovane di aver voluto uccidere quando è. No, deve averlo aggredito per scacciarlo. L'ha colpito con una delle statuette di bronzo del salotto. Quando è caduto morto poi bisognava liberarsi del cadavere e ad evitare che riconoscendolo si potesse arrivare a loro così l'hanno sfigurato con quella statuetta e poi nessuno di voi mi crede, vero? capirà che la sua tesi non chiamiamola accusa è molto grave è grave e senza prove ma una prova ce l'ha data il commissario eccola qua già tre peli di gatto selvatico per ridicoli per ridicoli che possono sembrare potrebbero essere una prova sono stati trovati sul cadavere appartengono a una coperta da viaggio che si trovava nell'auto di Wilton figlio con quella macchina probabilmente è stato trasportato il cadavere ma stranamente questa coperta non si trova vabbè la varranno distrutta ma quella è gente ben consigliata favorita non è vero signori Megre la prego beh insomma stringi stringi di tutta la sua ipotesi resta ben poco già tre peli di gatto selvatico eh beh caro Megre io caro signor procuratore per carità capisco benissimo anzi era tutto previsto però se riprendessi in mano l'inchiesta e senza guardare tanto per il sottile se andassi a casa Wilton a dire quattro parole alla bella signora se andassi a prelevare il giovane Wilton per un incontro a quattro occhi beh non credete signori che in un paio di giorni salterebbero fuori tanti di quei peli di gatto da mandare qualcuno in galera e qualcun altro magari esercitare il suo ufficio in provincia Megre la prego non è il caso ma non tema non tema signor procuratore non tema sono soltanto parole per dargli più forza sarei tentato quasi di dare le dimissioni seduta stante ma sarebbe un gesto sprecato per uno che è vicino alla pensione e io non sono più così ingenuo anche se lo volessi chi mi permetterebbe di fare giustizia creando scandalo sul nome di un potente vero signori rivedisco niente un ricordo un ricordo di un amico un'ultima cosa signor procuratore le sarò molto grato se appoggerà la mia richiesta di promozione del brigadiere Fumel come avrà sperimentato è uno dei migliori elementi della polizia signor procuratore signor istituto direttore sono venuto a portarle questa l'ultima pipa di suo figlio grazie e grazie di tutto la signorina è venuta per ho seguito il suo consiglio commissario no beh consiglio no guardi io non ne ho dato un consiglio proprio ah si si certo comunque la valigia è qui ah bene 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 allora arrivederla signora arrivederla signora come vede mio figlio già appunto arrivederci signora cosa cosa fai qui sono venuto per la signorina di lino andiamo andiamo questo è il momento il luogo andiamo scusa con i delinquenti ci sai fare ma con la penna e con le donne c'è un vero disastro è una brava ragazza ma non è una meraviglia eh guarda la vigna proprio sotto casa ti alzi dal letto e vendemmi hai visto comoda guarda questa guarda questa qui non è un'occasione questo è un modesto affitto dal pensionato statale guarda che interno meraviglioso ma sei proprio un bambino Megret eh ti sei attaccato a questa idea della campagna con l'ostinazione di un bambino ne parli come se fosse un capriccio andiamo insomma Megret ragioniamo voi eh tu hai fatto sempre il tuo lavoro con la passione e con l'abilità che tutti ti riconoscono ma hai avuto anche tante soddisfazioni mi pare no? e questo lavoro adesso non lo sopporti più a Parigi tu sei stato considerato quasi come come un re e ora scopri questa insofferenza per la città ma perché? per il mondo che che è cambiato o forse perché sei tu che invecchi sono domande da farci signora Megret andiamo certo che invecchio allora scusa non è meno invecchiare tranquillo fra le cose che che ti sono familiari senza cambiamenti preoccupazioni Megret lascia perdere la campagna no mia cara no no perché vedi signora Megret non è grave invecchiare l'importante è non averne la sensazione eh sì e in campagna ci sembrerà di cominciare da capo vedrai sì avremo una nuova casa di fiori frutto un buon vino nostro sì sì lo so lo so lo so come la pensi tu eh tu zapperesti faticheresti come un vero contadino pur di realizzare quello che ti sei messo in testa eh sei sempre stato un testardo e un prepotente lo sai ma poi guarda lasciamo andare tu lo sai già come va a finire come 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 va a finire eh finirà che che io come sempre ti darò ragione se non ci sei tu la sera non so più cosa far da mangiare la notte dove appoggiare la testa per dormire se non ci sei tu la casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglio star con me a sentirmi parlare 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 di te se non ci sei tu non è n'importa più di riordinare il letto di scegliere di scegliere un vestito nuovo non mi importa più io mi sento giù poca voglia ho di lavorare mio dio come mi sto lasciando andare e corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare 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 di te parlare di te Carità, signora Wilton, meglio così, anzi. Se non si sapesse che la polizia è quella cosa terribilmente seria, direi che ha voluto farmi uno scherzo. Qualche volta anche la polizia fa degli scherzi. Sì? Immagino allora che avrete un grande affare. Beh, ma no, non è questo il caso. Le ho spiegato la circostanza particolare. Insomma, di che ladro si tratta. E siccome ha abitato per più di due settimane proprio qui di fronte, allora ho sospettato e così mi sono permesso... Ha fatto benissimo. Grazie. Ha più di un'automobile lei, signora? Ne ho due. La mia e quella per la servitù. E il segretario? Ah, la sua. Perché? È una macchina sportiva, eh, a giudicare dal motore. Beh, scusi il disturbo, signora. Che dice mai? Le sono anzi grata. Riconoscente. Per lo scrupolo, l'interessamento. Con cui tutelate la pace e i beni dei cittadini. Boh, i beni dei ricchi, la vita dei poveri, ci sforziamo di proteggere tutti allo stesso modo. Se si può. Commissario? Signora, mi rispetto. Ah. Questi devono avere un gran valore, immagino, un piccolo patrimonio, eh? Sì. È una raccolta di un certo pregio. Mio marito è un appassionato collezionista di bronzi del Rinascimento. Sir Wilton? Sì. Ma scusi, lei non è divorziata? Oh, sì. Ma Wilton è pur sempre mio marito. Ah, giusto, giusto, giusto. Mi scusi il disturbo, signora. Con permesso. Dovrebbe aver ricevuto una dozzina di colpi. È stato aggredito da dietro. E un colpo molto violento gli ha sfondato il cranio. È morto subito. E gli altri colpi? Alla faccia, quando è caduto sul dorso. Ma con che cosa è stato colpito? Ne abbiamo parlato a lungo sulla medicina legale. Di sicuro non si tratta né di coltello, né di chiave inglese, martello, roba del genere. Escludiamo che fosse un oggetto levigato o squadrato. Di sicuro è un oggetto pesante, anche abbastanza grosso. Ecco, qualcosa di questo genere, di questa forma, pressa poco. Capito? Una specie di statua, eh? Sì, è un'ipotesi che ho fatto qui nel rapporto. Una statuetta. Ma per l'ora della morte? Fra mezzanotte o le due. Ma piuttosto verso mezzanotte. Va bene. Io la ringrazio molto, dottore. La medicina legale ha fatto un buon lavoro. Arrivederci, dottore. La compagno. Calma. Calma, calma, Ambrosini. Respira profondamente e raccontami tutto della signora Rezon. L'hai pedinata? No, lei no. Ma come no? Ti avevo detto di seguirla, di vedere con chi si metteva a contatto. Morto Rezon, l'unico bandito che avevamo acciuffato, non ci resta che la moglie per sperare di arrivare a Fernand. E la pista di onore quand'è? Non sono affari tuoi questi. Tu dovevi seguire la moglie di Rezon. E che lei ha detto che non l'ho fatto? Se lei non mi lascia parlare, capo. Vai avanti, parla, su. È che ho visto subito che era tempo perso a seguire quella donna. Lei stesso dice che le sembra estranea quello che faceva il marito. Così mi sono informato dai loro vicini, Lussac. Non era questo che voleva? Va bene, vai avanti, vai avanti. Beh, ho saputo che lui, Jean Lussac, fa il rappresentante di strumenti musicali. Ha un figlio di due anni e una moglie carina. Eh sì, proprio carina. Chi ti ha detto di sedere? Sieniti. Ambrosini, l'ho vista anch'io la signora Lussac, non è questo che voglio sapere. Eh aspetti, allora io ho pensato. Sembrano brave persone, sì. Però erano amici stretti di un bandito come Reson. E questo te l'avevo già detto io. Eh va bene. Soltanto che, secondo me, questo Lussac fa troppi lussi per un commesso viaggiatore. Intanto Marce e Mercedes ultima serie. Oh, finalmente una notizia interessante. Hai saputo altro? Ieri sera, dopo cena, Lussac è uscito. E io dietro con un tassi. Purtroppo all'altezza della porta di Versailles mi ha seminato. Eh bravo Ambrosini. Ma è colpa del tassista, capo. Non è voluto passare col rosso. Così sono tornato sotto casa sua a fargli le poste. E l'ho visto rientrare all'una dopo mezzanotte. Va bene, seguite a stagliare costo, eh. Senza che se ne accorga. Senti, procurati una macchina, firmo io la richiesta. Ma vadano a farti seminare un'altra volta adesso, eh. Tia tranquillo, capo. Io col rosso passo lo stesso. Va bene. Allora, tendi l'informato, eh. Tagliati i capelli. Ma capo. Sì. Sì. Dove sta andando? Oh, salve, signor direttore. Oh, stavo seguendo la mia pista sulla morte di quand'è. Vede, proprio di questo volevo parlarle. Sì. Il procuratore Dumayot e il sostituto Carnavel ritengono che lei non debba più occuparsi di questo delitto. Eh? E perché? Pare che siano convinti che non c'entri nulla con la faccenda delle rapine. Ed è di questa che sono preoccupati. Le indagini non approdano ancora nulla e... E la stampa starnazza sempre più. Eh, lo so, lo so. Non penserà che non ne sia preoccupato anch'io, non penserà che non mi domandi anch'io fino a che punto c'entri il delitto quand'è. Scusi, lasci che se ne occupi. Il solito brigadiere Fumel, non è lui l'incaricato. Sì, ma io gli do una mano perché... Beh, sì, insomma, la cosa potrebbe portarmi a Fernand, ecco. Potrebbe. Sì. Non è troppo poco. Intanto è sfumato l'indizio del vestito. Ormai è provato che il gangster vestito di scuro era raison. Beh, un fatto è certo, signor direttore. Anni fa quand'è con Nobby Fernand... Come si fa dunque a dire che il delitto quand'è non c'entra con Fernand? E con le rapine? Sì, forse, non c'entra. Ma io dovrei mollare proprio tutto adesso che mi sono imbattuto in certe persone che potrebbero avere rapporto con l'omicidio del povero quand'è. Sappia allora che sono proprio queste certe persone in cui le sei imbattuto a preoccupare il procuratore. E non solo il procuratore. Ah, cioè ancora molto più in alto. Perché vogliamo fare la commedia fra noi, Magret? Pare che al ministro sia arrivata una protesta importante che ha rimbazzata fin qui ed ha messo in agitazione tutto lo Stato Maggiore. Ho capito, ho capito l'antifona. Non devo più disturbare la signora Wilton. Stavo appunto per farle un'altra visita, ma eviterò, eviterò di scomodare la signora. È dunque tanto importante il suo ex marito? Direi di sì. Prego. È stato fatto presente dall'alto che si tratta di un grande amico della Francia. Sir Wilton è uno straniero influente da non infastidire. Un inglese che preferisce vivere qui piuttosto che dall'altra parte della manica. E come mai? Preferisce come si vive qui e si sentirà più libero. Si sa a Parigi e Parigi. Beh, libero in che senso? Non è che in Inghilterra non ci sia libertà. Non faccio il collegiale, magrè. Sir Wilton è un tipo che si è sposato tre volte e scommetto che ce ne sarà presto una quarta, benché sia prossimo ai settanti. Diciamo che non disdegna le donne, dunque. Eh, diciamolo pure. Non disdegna nemmeno quelle da cui divorzia. È rimasto in eccellenti rapporti con tutte le sue ex mogli. Tutte, compresa l'ultima, Florence. Ah, già. Quella che sono andato a scomodare e a cui permette di portare il suo nome, Stuart Wilton. Beh, finché non infrange in maniera grave le nostre leggi la sua vita privata, non ci riguarda. Mi piacciono le donne. E allora? A cui ha interessi colossali. Ha avuto persino la legion d'onore al merito. Dobbiamo tenercelo buono, magrè. E il figlio? Quello che ha avuto dalla prima moglie. Ci siamo. Questo è l'argomento che la interessa. Soffia un vento a Parigi stasera Un vento che vento non c'è Sono mille sospiri diamanti Perduti così come noi Sono frasi d'amore pensate Ma dette soltanto a metà E ogni sera Dall'ultima sera Tornano a me Mon amore Joseph Rézant Fu Marcel E' suo marito, vero signora? Sì E' mio marito Ma Joseph non può aver fatto una cosa simile E' un uomo onesto Lo chiede a tutti E' il primo meccanico al reparto montaggio della fabbrica qui a Javel Guadagna bene, non è possibile Lei si sbaglia Temo purtroppo di no Dov'è? Voglio vederlo Sono venuto a punto per condurla da lui Vengo subito Le bambine Fra mezz'ora escono da scuola Ah, non ha nessuno a cui lasciarle? Ho una vicina, la signora Lussac Ma in questo momento è fuori Beh, l'ispettore L'attenderà Pregando a nome suo di tenere le bambine Grazie Ma non ditevi No, no Lui dirà che suo marito non si è sentito bene in fabbrica Allora vada a prepararsi signora Vada pure Allora vada a prepararsi signora come sta dottore ma parla una sola parola monique forse il nome della moglie o di una figlia senti che telefona a lucca ci dovrà essere sempre qualcuno di voi qui pronto che la parla a interrogarlo è che è l'unico filo che abbiamo per arrivare a fernand tienimi informato io per almeno un paio d'ore sarò in casa reso si sta bene a pancia piena e gustavo che ne dice tutti buoni comandante a me fa da digestivo lei d'aperitivo e perché no a quelli si che vanno a farsi un bel pranzetto donno ognuno fa il passo secondo la gamba amico mio buongiorno gustavo buongiorno come mai c'è tanta polizia nel quartiere succede qualcosa possibile che non conosca il comandante prende un bucetto con noi non succede niente signorina si tratta della solita routine del servizio controlli formalità è meglio così capirà non è da molto che io abito qui beh gustavo se qualcuno mi cercasse certo signorina gli spiegarò come trovarla grazie arrivederci gustavo agente ah di un po' gustavo l'hai fatta vedere questa foto no se la può pure riprendere tanto questo qui non lo conosce nessuno no no tienila tienila lo cercano ancora e l'altra piuttosto quale altra ma come quella che ho distribuito ieri mattina no stai a vedere che mi sono dimenticato di dartela questa ma il signor Richard capo ho messo qui dentro i vestiti e le scarte di raison è la roba che mi ha detto va bene senti dai questa a merce speriamo che la scientifica trovi qualche cosa di utile va bene capo io non ne posso più vado a casa scusica come facevi lì spiavi? spiare io signore guardavo cosa faceva lei in casa mia casa tua? ah tu sei la figlia della signora Raison si mi chiamo Monique Raison e questa è la mia sorellina avete finito di ficcare il naso in casa nostra? finito si finito signorina Monique ma Luis desidera? sono le figlie della signora Raison? si desidera? no niente scusi volete chiudere quella porta? fa un freddo cane porta dentro le bambine desidera? niente niente allora permette? prego polizia polizia ancora? permesso? avanti e chiude la porta posso le ficarmi sotto? è proprio una persecuzione stanotte mi cacciate via dal bulvare adesso si tranquillizzi signorina si tranquillizzi non sono della buon costume io beh allora perché? beh così per per fare due chiacchiere beh va è molto che sta qui da quando sono tornata da Cannes da ottobre faccio sempre la stagione a Cannes ma quest'anno gliela raccomando una vitaccia eh? scusi è è sposata? eh sì ma quando mi ha infilato l'anello al dito ha preso il volo ah capisco capisco anche mia moglie sa e no anche lei ha preso il volo eh già si vede che abbiamo sposato due uccelli ma lo so che sei simpatico no 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 senta signora permetta che mi segga il lato arrestato è morto senza aver parlato non c'è nessuna traccia della banda assassina Fernand è ancora introvabile il commissario Maigret è ferito dichiara che vuole andare in pensione eh 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 questa è un'indiscrezione del nostro carnavel piacerebbe al dottorino eh eh dottorino sì sì ma di chi parli? di chi parli? il signor sostituto del signor procuratore quello che ha organizzato la caccia grossa ai Champs-Élysées non saremmo rimasti con un pugno di mosca in mano se mi avessero lasciato qualche uomo in più deve venire da lui questa notizia del mio ritiro in pensione no 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 lo ricordo anch'io sai l'hai proprio detto di volerti ritirare sì quando? a Bergerac quando avevi al collo l'altro braccio ah sì? ah sì? ma lo dissi solo a te anzi te lo riconfermo si vede che le ferite alle braccia mi fanno venire una gran voglia di starmene tranquillo di ritirarmi in campagna ma adesso c'è questa storia da risolvere e non c'è ancora un barlume di luce Raison è morto l'unico che poteva parlare no 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 non ti muovere vado io ma è tempo sì sì vado pronto sì sì casa migrè no no sta riposando ah ah anche qui sì vabbè vabbè scusa aspetti un momento le frumelle dice di avere scoperto dove ha abitato quando è fino alla notte in cui è stato ucciso la giacca dammi la giacca e che ma cosa fa il braccio mi fa niente dammi la giacca dammi la giacca ti prego dammi la giacca oh me oh 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 gatto la pen prego si cioè coniglio ma se fosse gatto non c'è proprio confronto fra lei e il suo collega ma perché l'ha mandato di là lo conosce lei il suo vicino chi lo svizzero come fa a sapere che è svizzero ho lavorato in svizzera tre anni fa facevo l'antrenese in un locale di Ginevra poi mi hanno tolto il permesso di soggiorno suppongo che da quelle parti non piaccia la concorrenza e le ha mai parlato è venuto qui sono andata io da lui una volta sola e e l'orologio il padrone ha detto che lei l'altro ieri gli ha dato l'orologio per farlo riparare ma lei adesso ce l'ha al polso il signor Richard non è ancora ritornato dunque è entrata nella sua stanza almeno una seconda volta avanti su dica la verità e va bene e mi ripeta tutto dal principio lei l'altro ieri lo ha visto rientrare qui eh? che ora era? mancava poco alle tre è sicura? c'era anche il padrone? ha il suo da fare oggi la polizia sa se sua moglie me l'ha stirata alla biancheria credo di sì l'ha vista salire con un fagotto in mano ah buongiorno buongiorno signor Richard salve signor Richard la sua chiave è lì attaccata grazie è una persona a modo quella ah sì sì è più di un mese che qui non ha mai dato noia a nessuno se ne sta quasi tutto il giorno in camera sua seduta davanti alla finestra a leggere o ad armeggiare quei suoi francobolli ah ma non hanno proprio pace oggi ci credo con quello che è successo ha letto il giornale? no venga e adesso anche il signor Magret avrà il suo da fare avanti disturbo? no no in cosa possa essere utile signorina Olga? il mio orologio va indietro lei che è così brava potrebbe darci un'occhiata ah beh perché no se me lo lascia che dice sarà sporco? la molla funziona beh vedremo un bicchierino di Kirsch? no no per carità chissà quanti ne dovrò bere prima di domani mattina beata lei che sta qui a riparo deve essere un pigro lei ah si dicono così beh e per ora grazie signor Richard arrivederla signorina Olga arrivederla arrivederla Ecco, così, dice che gliel'ha visto fare appostandosi al buco della serratura. Ma perché tanto interesse per quand'è? Forse... forse era innamorata. Innamorata? Ma che innamorata? Alle due di stanotte è ritornata a riprendersi il suo orologio. Lei dice perché ne aveva bisogno e temeva di aspettare troppo. Forse è vero, capo. Sì, forse, o forse sapeva che era già morto. E se questo fosse veramente gatto? E se in qualche modo anche lei fosse nel giro di Fernand? E dove era quand'è l'altro ieri? Alle 13 e 15. Certo, se era all'ufficio postale per la rapina, ha avuto tutto il tempo di tornare qui dopo essersi cambiato tanto. Eh sì, se almeno Reson avesse parlato... Deve... Avanti! Guardi, capo. Ma questo è il vestito che hanno visto all'ufficio postale. E dove l'hai trovato? Nella fabbrica dove lavorava Reson. Chiusa a chiave nel suo armadietto con questa tuta. Bravo, bravo. Questo è naso da poliziotto. Bravo. E... Però ti tagli i capelli, eh? Ma capo, per favore... No, no, te li tagli, te li tagli. Ma quand'è? Chi lo ha ucciso? No. E dove? E perché? Il figlio è stato sposato appena un anno ad una bellissima manchenda di origine ungherese, lì da Herzeg. Poi divorziò. Il padre prima si era opposto alle nozze, ma il figlio si era intestardito. Però... Un giorno... Che succede? Che il figlio si accorge che sua moglie e il padre... Ah, bella famiglia, no? Si è cercato di mettere tutto a taceri, ma qualche giornale ha parlato. Ora Lida vive a Roma con un principe italiano. Ecco. Questo è quello che voleva sapere. Quando le ho detto che il figlio ha un appartamento all'hotel Giorgio Senche, le ho detto tutto quello che sa. E adesso anche lei sa tutto. Però una cosa deve promettermi. Di non fare nulla senza interpellarmi. Sia tranquillo, signor direttore. Quando avrò un'idea correrò da lei. E grazie per avermi avertito, eh? Prudenza, negre. Ah, sì, promesso, promesso. Prudenza, prudenza. Allora, intesi, eh, Simmel? Intesi, capo. Devo vedere se nell'interno della ventre del vecchio Wilton c'è una coperta di gatto selvatico. E devo fare altrettanto con la macchina del figlio. Mi raccomando, discrezione, la massima discrezione. Se fide di me il commissario, ha visto come ho perquisito casa quand'è? La madre neppure se n'è accorta. È vero. Ma a proposito della vecchia quand'è, strano che il suo figlio non le abbia lasciato nulla. Beh, ma quando è non sapeva mica di dover morire così presto? Ma un nascondiglio per la refurtiva dovrà pure averlo, no? Non è in casa della madre, questo è sicuro. Ho rovistato dappertutto, dai punti più impensati. E non ho trovato né somme di denaro, né niente di prezioso. Anche tra i suoi francoboli i nostri esperti non hanno trovato nulla di valore. Eppure qualche francobolo raro poteva rappresentare un buon investimento. Sì, ma non da lasciare in mano ad una vecchia che sa appena leggere. Ah, Ambrosini, passa per lì il Moffetaro. Dove abita la madre di Quand'è? Sì, ti lasci lì, è solo una piccola deviazione. E poi corri a fare le poste al nostro Lussac. Stia tranquillo, quello me lo gioco io. Se lo ti gioca lui, se non ti levi quei baffi finti. Ma guarda un po'. Basta, per favore. Di questo non so niente. Beh, ma per forza doveva rivendere i gioielli, la roba che rubava. E dato che non era una spendazione, per forza avrà nascosto il ricavato in qualche posto, certamente. Se i soldi per la casa, signora, quando glieli dava di volta in volta, come farà adesso all'andare avanti? Non ho paura. Onore è un bravo figlio. Sono sicura che non mi lascia senza niente. Non è stato ucciso da un vagabondo. Non è un delitto fra normali e non è stato nemmeno liquidato da un complice. Poi un vagabondo non avrebbe avuto alcuna ragione per sfigurare il cadavere accanendosi sul viso e votando le tasche di ogni cosa, compresi i fiammiferi. Un complice ugualmente non l'avrebbe fatto, sapendo che quando è stato in prigione e quindi immaginando che noi l'avremmo identificato dalle impronte digitali. Ma chi l'ha ucciso non lo conosceva e tuttavia aveva una ragione importante per sopprimerlo. Lo capisce? Che cosa devo capire? Eh, che quando sapremo quale colpo preparava Quand'è, in quale casa, in quale alloggio si è introdotto, noi saremo molto vicini a scoprire chi lo ha ammazzato. E che non lo farà rivivere. Ah, hai già squizzagliato i tuoi uomini? E bravo Fimello. Sì, sì, che battano tutte le gioiellerie, gli orefici. Eh, sì, perché Quand'è non si serviva di ricettatori. E anche trattorie, pizzicagnoli, panettieri. Sì, perché spesso si faceva da mangiare da sé. E cartolerie, librerie. Leggeva, scriveva il nostro uomo. Sì, eh beh, certo, ci vuole pazienza, ma una traccia deve pur trovarsi. Appena annusi qualche cosa, fatti vivo, eh? Hai capito? Grazie. Va bene, come siamo arrivati tutti. Per potermi occupare del caso Quand'è, devo far finta che è legato a quello dei rapinatori. Non è vero? No, e ne sono convinto da un pezzo. E non gliel'hai detto a loro? Se lo sapessero, archivierebbero subito il caso, perché l'assassinio di un piccolo ladro non conta più per nessuno, eh? Neanche per la giustizia. Invece la storia dei gangster tiene tutti in agitazione, perché ci sono di mezzo l'interesse delle banche, delle compagnie di assicurazione, e sicurati, ma... Scusi, c'è un osso, c'è un osso, che mi ha dato... Ecco, non l'ho dato. Scusi, ma ci sono di mezzo i grossi affari, hai capito? Ecco. Ma la vita di un uomo non è forse il più grande affare di questo mondo? Eh... All'attuna che fra poco non sarò più mischiato in queste storie. È la prima volta che ti vedo soddisfatto all'idea di andare presto in pensione. Sì, è un'idea a cui mi vado affezionando, capisci? Vedi, vuoi ancora un po' di patatine? Sì, vuoi ancora un po' di patatine. Pensa finalmente bere un vinello genuino, magari della tua stessa vigna che la vedi lì sotto dalla finestra. Ora ricomincia a parlare della campagna. Pensione per me equivale a campagna. Senti, ma mi farai vedere almeno la televisione? Sì, ci sieni. Io mi accontenterò del giornale che arriva sempre due giorni dopo. Ma non immagini quanto siano belle le notizie stagionate. È come leggere un romanzo, capisci? known. È come leggere un romanzo, capisci? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.